Per fare una sintesi di quella che è stata questa masterclass ho cercato semplicemente di tradurre quello che è il mio approccio professionale in quello che di solito faccio nei confronti di un film, però penso che questo approccio possa essere in qualche modo traslato sia anche documentari, piuttosto che piccoli cortometraggi, qualsiasi opera, se chi ne usufruisce è d'accordo usufruire di questa metodologia. Quindi ho fatto una piccola disamina da quando prendo una sceneggiatura, da quando affronto il lavoro di preparazione, di ripresa e di post-produzione di un film.